Qua sarà chiuso, qua non si fa niente Che ci fa questo qui? Ma non è come il nostro Niente Scuso Ok, lo da per esplorato Quindi niente, questo praticamente evidenzia che Quella è una zona che abbiamo fatto, non c'è nulla Sì, beh, in teoria si vede se ci sono gli oggetti perché compare A una certa distanza già compare il segnale Questa è acceso Cos'hanno fatto? Ah? In mezzo di un sabba delle streghe Cimitero, officina, luogo della cerimonia Ecco, luogo della cerimonia Chiuso, il proprietario è sparito Ok, viene segnato un lucchetto E' chiuso Non c'è nulla Patrina, non c'è nulla E' chiusa Praticamente ci vede che ci vuole una chiave con quel simbolo lì probabilmente Conoscendo gli altri Si apre E' accaduto Coltello Qualcuni lucetti possono essere rotti, si Grazie Abbiamo visto Buona, buona Eh, ci sono entro i girini Che cazzo Sei scemo Che ti manda? Nessuno C'è stato un incidente sulla strada e Sì Ha fatto casino Che succede? Che occhi Oh no Arrivano Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma? No, perché dovrei? Hai, italiana Hai, italiana Hai, italiana un cadavere ce ne sono altri però non sono stati mangiati scusa si sono messi qui da poco scusa ah è lo stesso modello vedete si muoverà un incrocio tra un lupo mannano e un zumbo in realtà sembra un po' luffo e rigno quello che faceva Hulk negli anni 80 cazzo mori o no ho sprecato quella cosa non si può dargli una pelata devo finire di nuovo qua ok qua ci sono ricco pianta evoluzione chimica qua non c'è nient'altro ok adesso qui è chiuso qui c'è un comune di paglia qui c'è un comune di paglia dall'altro lato fate una mappa ok questo qui è inesplorata inesplorazione la dà perché non risulta finita perché lo considero un blocco unico questo proiettili finiti qui qui non 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 Ma secondo me già che abbiamo visto tutto Oh no! Oh no! No! Ci sono giocati! Oh no! No! Oh no! Oh no! Oh no! Ah! No, ma... No, ma... Dati? Sono... Finiti. Salve! Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti. Vicino ai campi. In realtà ci conviene... Disinfettiamo... Ma se servisse, non è acqua... acqua magica. Quindi qua... Ok, qua è dove siamo venuti prima. Qua è... Si è aperto qua, praticamente. Salve! Qua? Può entrare qua. Questo era quello di prima, mi sa. Oh! Finché ci lasciano stare. Oh! Faccio... Fa rumore, qualcuno si incazza, no? Cazzo. Guarda. Bene. Sopravvive l'attacco. Sopravvive l'attacco. Può entrare qua. Non puoi... Grazie. non finiscono mai via via si sa chi sembra che che c'è un nemico anche questi esplodono però per ora se non c'è un nemico vicino non ci serve gli è cieca con la farina via chiuso facciamo il mulino qua è chiuso chiuso però almeno non ci ha ucciso noi via via devi sopravvivere all'attacco non è non è non è non ci sta No, 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 no. cazzo quella è la è la si peccato mi cagli quello lì grosso mi fai passare non ok 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 c'est fa la bia andiamo perché stanno a poco sperano il comportamento di qua addirittura a cavallo vanno salve che c'è? Filippo ti butta il fiato sono uscito davvero da Bloodborne questo è anche il pelo così grigio richiamo ok adesso qua siamo c'è il mulino e la freccia è una roba ma non perdiamo fiotti di sangue no? aspetta aspetta vabbè niente quindi bisogna tornare lì in un qualche modo può darsi che vedo che ci sono due strade qua almeno nella vita e nella morte rendiamo gloria ehi non puoi stare qui è pericoloso ma che diavolo ehi mi hai sentito? sei tu il padre della bambina bambina aspetta parli di Rose lei è qui Rose Rose si è in grave pericolo da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata all'oscurità di che stai parlando? di quei mostri? è calata perché è arrivata Rose scusa l'oscurità ora una pace molto lunga cerca Rose vediamo da qua perché non puoi saltare perché se per i miei spazi fa così si para la seratura faccia da scassinare senza grimaldelli potenti rican leggendari lupi manari di ere passate servitevi delle nostre carni la serata e i nostri corpi super un pazzo suicida diario ah ok vediamo qua un attimo 9 febbraio doveva essere una sera come tante altre poi Chris Refield ha distrutto la nostra famiglia rapito rosa ha sparato a mia ha trucidato perché ha sparato sembra una cosa così davanti a me gli occhi ho perso i sensi mi sono risvegliato una foresta nel nulla che cazzo è successo? prima mattina ho trovato un villaggio ai confini della foresta ma uno degli abitanti è stato aggredito e trascinato via da una specie di bestia sono riuscito a sopravvivere a quella creatura e una donna anziana mi ha detto che Rose si trova qui da qualche parte devo trovarla prima che quei mostri la raggiungano ok così missione eliminare il bersaglio recuperare il bersaglio ok nota scritta a mano ok preferito medico ok queste sono le cose che abbiamo letto questi sono i consigli qui per ora non c'è niente di nuovo c'è i controlli un po' strani ma gioco qua praticamente si chiudono i menu col tasto destro del mouse vedete che abbiamo raccolto scusa comunque anche qua è poco pulito secondo me era meglio mettere tipo qua un numero in cui ti diceva quanti ne puoi creare tra parentesi per esempio invece che devo stare qua a leggere qua vabbè anche per tornare al menu devi premere cancel una volta che sei uscito qua c'è qualcosa no questa è la paladina chiuso chiuso l'altro lato chiuso l'altro lato lo vado a sparo ciuso all'altro lato qua non se ne parla C'è una targhetta Aspetta, aspetta, aspetta Lucica E' l'occhio che si illumina Ah, ah Frammento di cristallo Tesori Minerano e bianco trovato in questa regione Di valore Abbiamo 1100 lei, 1110 lei Comunque cosa sia Castello di Mitresco Luogo della cerimonia Ed è chiuso Qui c'è un altro Un'altra cosa Che forse Nel momento in cui abbiamo la manovella Avviene su qualche oggetto Può darsi Niente di che Penso Qua Altri scarti Posso fare un altro Niente Oppure Ok Qua è chiuso Non dice niente In teoria Questa cosa sembra che non si possa entrare Cimitero Cimitero Niente Andiamo Cimitero Qua Abbiamo queste capre Tutelari Per proteggere i villaggi I suoi abitanti Chi le distrugge E tirà su di sé La colla Di madre Miranda Dispariamo Achievement Capra Madre Miranda Ci sei? Un mulino là in fondo Perchè un collezionabile Ma nessuno È strano Ah Come facciamo entrare? E qui no Cos'è questa roba? È un bug Mi sa Qui si apre qualcosa No Eh Qualche Quello Quello Qua Pianta Castello Dimitresco Ok Qua ci vanno Degli oggetti Qua è la faccia Da demone Qua è la faccia Di una donna Quanto pare Portezza Cimitero Segaria C'è un altro Di quelle Ok Niente Serve un oggetto Decorata con un feto Circondato da ali Bel soggetto Andiamo a vedere questa chiesa qua Sembra che ci sia una chiesa qua Un pozzo Sì secondo me Tirano su qualcosa dal pozzo Un'altra cosa qua Per me non interagirci perché in teoria Così le mappano Quindi questa è sempre Con i disegni delle chiavi Questa è uguale a questa E questa Bowsole Sembra Più o meno Qui lì Però prima entriamo in chiesa Rilievo della donna Ok Mi sa che va là Questo Sembra Sembra più o meno Quello della favola Ma Non sono proprio E la tragedia Si abbatte sul villaggio Cerca i pezzi Del basso rilievo Uno è costruito in chiesa L'altro è a casa di Louise Quindi quando arriviamo A casa di Louise Possiamo aprire la porta Del castello No Ok Spariamoci sopra Questa non c'è niente Qua si è chiuso Ah Però aspettate un attimo Per me nemmo già metterlo dentro Vedere Si toglie Pertinalmente Quando vengo indietro Lo seguiamo Quindi non credo che ci sia niente Una mia Wow Non si deve Criare lì Tutte e due Non te lo lascia Giusto Pezza giusto Non si vedeva 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 E non si vedeva Buona scavarca. Faccio qualcosa. Cosa? Ma è ciò che faccio? Doc Cosa?